Bentornati al nostro videocorso sull'umanesimo italiano, interpretazione rosminiana di Rocco Montano. Tematizziamo oggi il problema della fenomenologia del corpo nel pensatore distiliano, come lui interpreta Merleau-Ponty e come soprattutto vede poi in Rosmini delle anticipazioni significative a quello che per lui è il pensiero di Merleau-Ponty. Vediamo che la vera autorità che Montano propone è senz'altro Merleau-Ponty. Lui dice che il pensiero italiano contemporaneo dovrebbe guardare molto di più a questo pensatore francese e evidentemente uno che avrebbe poi anticipato queste istanze teoretiche sarebbe stato Antonio Rosmini. Sulla scia, se abbiamo così, sulle indicazioni che Rosmini ci ha lasciato, dovremmo occuparci di Merleau-Ponty. Questo è il messaggio senz'altro di Montano. E occuparci di Merleau-Ponty perché? Per riscoprire quell'umanissimo autentico italiano fondato nella speculazione, nel pensiero del Rinascimento e poi, se vogliamo così, perso nella modernità solo Vico. sarebbe in tutto il filone moderno la maggiore, se vogliamo così, eccezione. Non la unica eccezione perché accanto a Vico Montano trova tantissimi autori, soprattutto dell'umanesimo napoletano, quello che spesso viene chiamato l'illuminismo napoletano, ma Montano preferisce chiamarlo umanesimo giuridico napoletano perché? Perché l'illuminismo, lui, come parola riserva a ciò che succede al nord delle Alpi, quindi riduzione al soggetto che significa riduzione alla immanenza dell'interpretazione di Montano. Questo recupero adesso di Merleau-Ponty avviene in ciò che è la riproposizione del realismo filosofico attraverso la fenomenologia del 1900. Che cosa è in Merleau-Ponty che è così rilevante da riscoprire e perché Merleau-Ponty sarebbe la istanza ideale per inaugurare un nuovo realismo filosofico che dovrebbe poi consentire di ritrovare l'umanissimo italiano? Allora, è senz'altro per Montano quello che è la percezione immediata del corpo. Secondo Merleau-Ponty, ciò che noi incontriamo per primo, e non soltanto incontriamo, perché incontrare significherebbe che è qualcosa scisso, separato da quello che è il principio dell'io. In realtà abbiamo però a che fare con una realizzazione originale di ciò che noi siamo. E la realizzazione più immediata e originale di ciò che noi siamo è il nostro corpo. Il nostro corpo è evidentemente non percepito dal di fuori, ma percepito dal di dentro. Noi abbiamo sempre una percezione del nostro corpo anche attraverso i vari sensi, però a differenza degli altri corpi del mondo abbiamo una percezione del nostro corpo che è una percezione originale interna. E attraverso questo evidentemente il principio soggettivo non è più qualcosa che si costituisce contraponendosi un mondo. Non possiamo più neanche parlare di una vera e propria costituzione del principio soggettivo prima della posizione del corpo. Abbiamo questo nostro principio soggettivo, il principio, se vogliamo così, che percepisce, sempre e soltanto nello stesso momento in cui qualcosa è percepita. E la cosa più originale percepita è, come abbiamo appena detto, il proprio corpo. L'io è appunto, in un certo senso, visibile e vedente allo stesso momento. Non abbiamo un principio soggettivo che vede, è un principio oggettivo che è visto. La fenomenologia supera questo, che sono i residui del dualismo cartesiano moderno. E, come dice Merleau-Ponty, in un'opera citata più volte da Montano, L'oeil e l'esprit, l'enigme tient, on saisit che mon corps è alla fois voyant e visibile. Questa realtà, che è lo stesso corpo e allo stesso momento, vedente e visibile, è per Merleau-Ponty un enigma, appunto. In questo enigma, dice Merleau-Ponty, si esprime un potere originale, qualcosa di originale. E questo, questo potere originale, non è quindi qualcosa che starebbe al di là della materia, ma si esprime soltanto attraverso il corpo. Il corpo, quindi, è un dato originale, un dato originale, in cui ciò che prima chiamavamo il principio soggettivo, è sempre già realizzato attraverso questo enigma e trova attraverso il corpo ciò che è fuori il mondo. Quindi, corpo non è qualcosa che sarebbe o soggetto o oggetto. Corpo è sempre qualcosa che sta tra senziente e sentito. Oppure, come dice Merleau-Ponty spesso, in un linguaggio poetico, è quando la scintilla, quando si accende la scintilla del percepiente che si percepisce come percepibile. Abbiamo quindi a che fare con un abitare autentico, ciò che è una parola che Merleau-Ponty forse non usa spesissime volte, ma che potrebbe essere considerato come una parola che caratterizza il suo pensiero, è un abitare. Cioè, l'io non è qualcosa che è posto, l'io è qualcosa che abita. Noi abitiamo il nostro corpo. Noi non ci troviamo semplicemente nel nostro corpo. Questo sarebbe il linguaggio di una metafisica classica. Lo spirito dentro il corpo, l'anima forma del corpo. No, abitare non è semplicemente stare dentro. Non basta stare in una stanza per abitare in una stanza. Noi abitiamo nella nostra stanza quando percepiamo questa nostra stanza come qualcosa che originariamente appartiene a noi. E soltanto in questa stanza noi ci sentiamo originalmente situati. Quindi, Merleau-Ponty così pretende di aver approfondito ciò che è la condizione autentica dell'umano. E l'umano non è in una condizione di uno spirito al di là della materia, ma è una idée historique, come dice Merleau-Ponty. La categoria fondamentale per descrivere il soggetto, e soggetto non possiamo neanche più dire, la categoria fondamentale semplicemente non è l'idea che starebbe presente a un cogito, a un principio che vede l'idea, ma è l'abitare. Questa sistematica di Merleau-Ponty convince Montano. Convince Montano perché permette di superare il dualismo moderno, come abbiamo appena visto, permette di superare il norsiologismo moderno che non raggiunge più la cosa in sé, che non raggiunge più un'oggettività al di fuori del soggetto, che non raggiunge più una morale oggettiva, una metafisica oggettiva, Dio, come analizza Montano, supera quindi questo norsiologismo, questo dualismo, e ritrova la condizione umana, la situazione del soggetto. Ciò che il Rinascimento aveva tematizzato come l'umanesimo, nella realizzazione immediata nel proprio corpo. E attraverso il proprio corpo siamo in contatto con il mondo. Ritroviamo quindi il mondo. Noi abitiamo il nostro corpo, ma in un certo senso ciò che noi sentiamo, il nostro corpo, finisce soltanto spazialmente con i confini del nostro corpo stesso. Attraverso il nostro corpo noi stiamo in un rapporto originale con tutto il mondo. Non è quindi più il caso di dover dimostrare la oggettività del mondo. Il mondo, attraverso la percezione del corpo, è originalmente dato. Montano trova questa maniera di pensare già realizzata nella Teoresi di Rosmini nel nuovo saggio sull'origine delle idee dove Rosmini parla del sentimento fondamentale. Infatti, proprio questa sistematica del corpo in Merleau-Ponty trova una sua analogia interessante nel sentimento fondamentale di Rosmini. Ed ecco come possiamo considerare adesso la interpretazione che Montano fa di Merleau-Ponty un aiuto per comprendere e attualizzare il sentimento fondamentale del nuovo saggio di Rosmini e come forse possiamo anche con Rosmini trovare una prospettiva critica sulla ricezione che Montano fa di Merleau-Ponty e chiederci se veramente questa strada che Montano vuole aprire mantiene tutte le promesse date dallo stesso Montano. In questo merito abbiamo disponiamo di due studi soltanto uno studio è di Townsley del 1976 apparso sulla rivista di filosofia neoscolastica dal titolo Rosmini and Merleau-Ponty Being Perception and the World che abbiamo di nuovo in traduzione italiana dal titolo La copporeità dell'essere in Rosmini e la fenomenologia contemporanea sulla rivista di Montano segni dello stesso 1976 in cui Townsley ritiene che abbiamo una strutturale fondamentale identità tra il sentimento fondamentale di Rosmini e ciò che per Merleau-Ponty è la percezione del corpo. Attraverso il sentimento fondamentale Rosmini quindi diventerebbe moderno contemporaneo a Merleau-Ponty e potrebbe aiutare alla causa della filosofia cristiana nel ventesimo secolo. Dello stesso parere è Montano infatti lo stesso Townsley si riferisce alle analisi di Montano che lui fa nel suo manuale già menzionato lo spirito e le lettere nel terzo volume nelle pagine 219 a 229 quindi abbiamo appena 10 pagine in cui Montano realizza questa sua analisi davvero più che profonda. Abbiamo però anche una voce critica e questa voce critica l'abbiamo ospitata nella nostra stessa videocattedra Antonio Rosmini dall'amico e collega Juan Francisco Franche quando lui ha analizzato il sentimento fondamentale di Rosmini l'ha messo in relazione a vari pensatori fenomenologici tra l'altro anche Merleau-Ponty e non era d'accordo con la interpretazione di Montano perché dice perché nella fenomenologia la realtà in sé non ha principi metafisici la realtà è quindi niente che è contrapposto metafisicamente al soggetto perché perché è nella intenzionalità del soggetto immediatamente data immediatamente data quindi per Merleau-Ponty oggettivamente mediata attraverso il proprio corpo ma in sé non conosce principi metafisici e Rosmini quelli li affermerebbe non così tanto anche nel nuovo saggio perché lì Rosmini si interessa soprattutto per le dimensioni nostriologiche ma soprattutto poi nella teosofia e nel quinto libro della teosofia che tratta del problema del reale riteniamo senz'altro valida questa critica di Frank valida però si concentra soltanto sulla dimensione e sulla integrazione metafisica di questo argomento riteniamo però che soprattutto la analisi di Montano è molto interessante ci può aiutare a approfondire a comprendere meglio la stessa dinamica del sentimento fondamentale nel nuovo saggio e a tale fine adesso vogliamo addentrarci un po' nell'interpretazione di Montano perché vediamo anche in Rosmini un'attenzione indivisibile Rosmini dice indivisibile come la intenzionalità fenomenologica è indivisibile tra il principio senziente e il termine sentito in Rosmini il corpo è immediatamente sentito e questa struttura di essere sentito immediatamente è una struttura indivisibile tra un principio senziente e un termine sentito e solo in questa relazione tensione indivisibile viene costituito ciò che poi metafisicamente è l'essere reale lente con il suo principio metafisico l'essere è reale in quanto sentito ma il sentito esige un principio senziente e soltanto dopo questa struttura Rosmini tematizza poi anche le istanze di soggetto e oggetto quindi abbiamo a che fare Montano a ragione con una introvisione profonda nella realtà Rosmini lo fa senz'altro confrontandosi con Kant e infatti già Kant parlava del fenomeno che noi percepiamo lui usava la parola intuizione intuiamo il fenomeno sensibile strutturandolo poi attraverso le forme a priori della sensibilità spazio e tempo ma intuiamo sensibilmente immediatamente i fenomeni ci sono presenti ma Rosmini vede in Kant il problema vede in Kant appunto il problema che questi fenomeni sono tutti senza una collocazione per il loro principio non hanno il principio soprattutto percepire il proprio corpo percepire il fuori del corpo eccetera non ci sono delle differenziazioni qualitative per Rosmini invece sì perché perché ciò che è sentito è sentito e immediatamente è a priori il proprio corpo come condizione di possibilità che qualsiasi altra cosa può essere sentita e questo corpo è sentito in maniera originale attraverso il sentimento fondamentale questo è la costituzione del senso fondamentale e attraverso questo senso l'uomo dà un significato a tutto ciò che è al di fuori di lui questo lo dice Berloponty attraverso il corpo attraverso l'estensione del corpo attraverso il contatto che il mio corpo prende poi con tutto quello che è il mondo noi diamo un senso al mondo ma non in senso completamente originario come lo fa Sartre perché si incontra al mondo oggettivo e questo dare un senso soprattutto si realizza attraverso una interazione ma questa stessa cosa troviamo anche in Rosmini perché Rosmini dice attraverso il corpo il sentimento fondamentale del mio corpo si finisce nel proprio corpo ma attraverso quello noi sentiamo il mondo fuori il mondo fuori quindi è sempre mediato attraverso ciò che è il principio soggettivo del sentimento non percepiamo mai un mondo al di fuori di ciò che è la costituzione del nostro sentimento fondamentale di ciò che è il principio del soggetto e anzi nella filosofia del diritto ad esempio vediamo come nella proprietà privata il sentimento fondamentale può essere esteso anche oltre il proprio corpo della proprietà e solo così Rosmini può spiegare come la proprietà privata diventa un principio del soggetto un diritto soggettivo e come ledere la proprietà e anche significa ledere la propria persona quindi il principio senziente che solo esteriormente è limitato alla percezione del corpo ma che nella sua intenzionalità va oltre questa è una dimensione che Montano scopre in Merleau-Ponty e che ci vuole suggerire di approfondirlo anche in Rosmini un suggerimento secondo me molto prezioso in questa interpretazione allora il mondo reale non costituisce più una minaccia per il soggetto e diventa la possibilità per riempirla con quel senso che deriva dal principio senziente oppure come formula Rosmini la materia inanimata susiste in vista e nella direzione dei principi senzienti la realtà acquisisce senso in quanto sentita in quanto è realtà extrasoggettiva dice Rosmini che però noi percepiamo quando entra in ciò che è la sfera del sentimento fondamentale che copre normalmente ciò che è la estensione del proprio corpo l'importanza di questo ragionamento si evince quando si considera appunto che Merleau Pontini capovolce ciò che è l'esasperazione dell'io senza limiti dell'io completamente tra virgolette liberale come lo intende Montano in Sartre il primo quindi atto verso il mondo non è la opposizione la minaccia lo scontro ma l'abitarlo dare il senso attraverso il sentimento fondamentale ora abbiamo un originale avvertimento che esiste qualcosa dell'esistenza ecco dice Montano nella sua interpretazione di Rosmini ecco la idea dell'essere attraverso il sentimento fondamentale corporeo percepiamo noi siamo aperti a poter percepire tutto ciò che esiste tutto ciò che c'è tutto ciò che c'è al di fuori del mio corpo e per il quale il mio corpo costituisce il ponte dice Montano e questa è la vera scoperta di Rosmini la realtà ci è presente come fatto fondamentale e questo sarebbe il senso dice Montano dell'intuizione dell'idea dell'essere l'essere è dato in maniera immediata mentre noi attraverso il corso della nostra vita dobbiamo incontrare sempre più oggetti del mondo sempre più enti sempre più cose sempre più persone in questo mondo abbiamo però grazie al nostro corpo il senso di ciò che è l'essenza siamo aperti siamo disposti siamo in grado di incontrare tutto ciò grazie al nostro corpo possiamo incontrare tutti gli enti quindi abbiamo una immediata coscienza di ciò che è l'essere questa coscienza dell'essere dice Montano implica cioè quella di una esistenza che non si riduce a una nostra sensazione che può essere ingannevole oltre che è casuale quali enti incontriamo può essere anche ingannevole e oltre questo contatto mediato attraverso i sensi questo contatto esteriore abbiamo quindi grazie al nostro corpo una percezione un senso una intuizione immediata incontrovertita di ciò che è la esistenza abbiamo una percezione immediata della esistenza ciò sarebbe dice Montano quello che Rosmini intende con la intuizione dell'idea dell'essere abbiamo una idea dell'essere in un certo senso la coscienza dell'essere ha una funzione quindi ora di ponte questa idea dell'essere allo stesso momento quindi è la idea dell'essere che è il ponte infatti Rosmini dice più volte che grazie all'idea dell'essere noi conosciamo tutti gli enti l'idea dell'essere è un mezzo di conoscere tutti gli enti è un ponte di conoscere tutti gli enti Rosmini così supera senz'altro il sensualismo perché? perché ormai il contatto con la realtà non è più soltanto di peso dalla casualità e dai problemi del senso perché ormai è riferito a una intuizione originale e questa intuizione originale però non è qualcosa che è differente dal nostro avvero originale il proprio corpo è proprio questo enigma stesso è proprio il sentimento fondamentale del nostro corpo stesso perché nel nostro nell'apitare il nostro corpo nell'avere il sentimento originale di esso abbiamo l'idea di ciò che è l'esistenza quindi abbiamo nel corpo stesso la intuizione di ciò che è l'essere tutto il mondo nel nostro corpo abbiamo già l'intuizione che è il mondo e qui allora abbiamo però anche già i primi problemi e quella critica che noi dobbiamo svolgere nei confronti della interpretazione di Rocco Montano innanzitutto quello che dice a livello fenomenologico del sentimento fondamentale corporeo può solo aiutare a approfondire ciò che Rosmini intende con questo termine però non sostituisce tutto quello che Rosmini intende con conoscenza e con percezione perché la idea dell'essere in Rosmini non è di fatto identico col sentimento fondamentale corporeo Rosmini non costituisce una identità anzi nella psicologia dopo dirà che esiste un sentimento fondamentale corporeo e un sentimento fondamentale intellettivo quindi sente di dover precisare nei confronti del neurosaggio che si tratta di una mera differenza e lo stesso neurosaggio a livello nosiologico è inequivocabile sul fatto che una cosa è il senso il sentimento e la percezione l'altra cosa è la intuizione l'intelletto e chiama proprio questo il merito di Kant Montano nella interpretazione di Rosmini cita ogni volta menziona ogni tanto che Rosmini su Kant non lascerebbe neanche una parola positiva questo non si può dire perché ogni tanto Rosmini parla di Kant in maniera positiva e nel nuovo saggio Rosmini dice di Kant in maniera positiva che lui avrebbe distinto più che qualsiasi altro pensatore e in realtà i platonici secondo Rosmini lo hanno già abbastanza distinto avrebbe distinto avrebbe distinto più di tutti gli altri tra conoscere e sentire una cosa è il senso il sentimento fondamentale l'altra cosa è la coscienza e il conoscere la coscienza l'autocoscienza questi sono per Rosmini atti razionali intellettuali a priori che non possono in nessun modo essere identificati con il sentimento fondamentale corporeo mentre questa critica vogliamo approfondire un po' di più nel prossimo videocorso capendo riflettendo un attimino anche su questi capisaldi del nuovo saggio adesso vediamo diamo un'ultima occhiata su alcuni luoghi dello stesso nuovo saggio in cui Rosmini parla del sentimento fondamentale e vediamo come qui Montano ci dà delle indicazioni per un maggiore approfondimento positivo di questi luoghi Rosmini dice nel nuovo saggio 712 bisogna considerare che questo sentimento è cotale che sempre si resta in noi ha anche rimosso tutte le sensazioni acquisite dall'interno e quindi un sentimento originale un apitaro originale anche se non ho nessuna ulteriore sensazione concreta sebbene quel sentimento esista deve esistere non di meno assai difficile a poterlo riconoscere e fermare infatti abbiamo sempre sensazioni concrete mai abbiamo quella sensazione che è quella che sta a monte di tutti e quella che rende possibili tutte le altre sensazioni quella pitara originale quell'essere originale il nostro corpo se non per occasione di una mutazione che proviamo dice Rosmini e dove nessuna mutazione avvenga ivi nessuna avvertenza nessun confronto nessuna riflessione abbiamo quindi le nostre sensazioni concrete attraverso gli influssi concrete che ci derivano dal di fuori ma quelle poi ci fanno poi anche avvertire che al di sotto di tutto abbiamo anche se non percepiamo in maniera esplicita perché abbiamo esplicitamente le sensazioni concrete del mondo extrasoggettivo il nostro proprio mondo tra virgolette il nostro corpo 715 il sentimento primitivo dunque non ci fa conoscere la figura né la grandezza visibile del nostro corpo ma ci fa percepire il nostro corpo in tutt'altro modo quindi non è un senso esteriore è un senso interiore né c'è altra via di formarsi un'idea di questo modo fuor solamente quella di concentrarsi dentro noi stessi di stare attenti a quel sentimento della vita che ci anima tutto e quindi un'animazione originale è un sentimento di vita non è una oggettività non è una oggettività matematica geometrica morta al di fuori di noi in questo senso sì le riflessioni del ventesimo secolo ci hanno dato un certo senso di differenziare e in questo senso sì avrebbe ragione Sartre se veramente nel dire che dove le cose sono oggettivate dove le cose sono già contraposte a noi non troviamo più il senso originale della vita il senso originale che ci connette a loro il senso originale che noi diamo anche alla realtà attraverso quello che Merleau-Ponty chiama l'esperienza originale del proprio corpo 727 lì Rosmini definisce proprio il sentimento fondamentale come una azione fondamentale che sentiamo venire esercitata in noi immediatamente non abbiamo quindi una riflessione o ciò che Rosmini chiama anche una percezione qui Montano fa un po' di confusione di termini perché usa la parola percezione e sentimento quasi in maniera sinonima mentre per Rosmini sono due termini ben differenti in quanto la percezione presuppone già una distanza tra quello che sente e ciò che è sentito quindi nel sentimento fondamentale però non siamo a livello di questa distanza ma a livello più originale della percezione immediata è necessariamente da un'energia che noi che non siamo noi stessi la quale azione è naturalmente a noi piacevole ma può essere variata secondo certe leggi e rendersi successivamente più o meno piacevole o anche dolorosa quindi è una è un senso originale anche di piacere il corpo di essere al suo agio nell'abitare il proprio corpo il corpo è una sostanza che agisce in noi in un dato modo in questa maniera il corpo dice Rosmini diventa anche consenziente a noi mentre il nostro corpo lo percepiamo in maniera originale immediata la realtà esteriore in un secondo momento nella percezione della realtà extracorporea il corpo diventa in un certo senso dice Rosmini cosenziente 754 per la quale cosa se una sostanza è congiunta con noi stabilmente con quel nesso che dici si della vita una tale sostanza è il corpo soggettivo ed esercita nel nostro spirito un'azione costante e uniforme che dici si sentimento fondamentale se manca questo nesso egli è un corpo straniero e non può produrre in noi che delle sensazioni parziali e passeggere abbiamo visto in questo secondo in questa seconda video lezione su Montano interprete di Rosmini che il pensatore di Stigliano ci aiuta senz'altro a capire e ad attualizzare per il pensiero cristiano del ventesimo secolo ciò che Rosmini ha chiamato il sentimento fondamentale la prossima volta invece vogliamo indagare dove sta il limite della sua interpretazione e dove sta poi il proprio di Rosmini nella intuizione dell'idea dell'essere e quindi in quale modo Rosmini ancora oggi potrebbe avanzare un argomento critico anche contro lo stesso pensiero di Rocco Montano quindi per portare avanti per sviluppare se vogliamo così ulteriormente questa sua intuizione originale dell'umanesimo italiano oltre ciò che poi da una prospettiva rosminiana ci appaiono anche i legittimi limiti della concezione stessa di Rocco Montano grazie dell'ascolto